Ma Luca, ma la smetti di importunare le api? Vieni qua che dobbiamo costruire un parco divertimenti! Ma che noia il tuo parco divertimenti ma con sti giochi vecchissimi dell'anteguerra Ma che cosa vuol dire dell'anteguerra? A te nemmeno c'eri dell'anteguerra! Ma la smetti, tirami la sabbia negli occhi! Criminale, vabbè cosa dovremmo fare secondo te? Voglio fare una sala giochi! Una sala giochi? Una cosa nuova, bellissima, moderna, dove tutti possono divertirsi E allora facciamo una cosa, costruiamo ognuno quello che vuole Tanto abbiamo possibilità infinite e increative e poi vediamo qual è quella che esce meglio, d'accordo? Io avrò le api dalle mia parte! Cosa stai facendo Luca? Ah! Ma cosa? Prima fai versi strani e poi mi butti pure la sabbia negli occhi! Dai che sto finendo il mio pavimento, te come sei messo? Io sono messo abbastanza bene, ho messo tutta la sabbia che serviva Ma uh, mamma mia! Ma cos'è la pizzeria di... Di Five Nights at Freddy's, questa roba qua, tutta una scacchiera! Sai che ci ho preso un po' di ispirazione? Mi piaceva come ambientazione È un po' strano perché sarà un po' rustico ma moderno allo stesso tempo Rustico ma moderno? Ma sei confuso secondo me! E soprattutto a questi muri scuri! Mamma mia ma è claustrofobica! Sarà un posto claustrofobicissimo! Guardalo con la sabbiettica! Certo la sabbietta! Adesso devi iniziare a costruire tutte le cose! Ti cade il cellulare qua dentro, lo voglio vedere e poi cosa ci trovi? Niente, lo raccolgo e basta! Qual è la difficoltà? Sbasta con la sabbia! Già ne ho un sacco! Criminale! Ecco cosa intendevo! Questi lente sbicciulosi sono bellissimi! Cosa hai detto? Ti sei inventato un'altra parola! Cosa vuol dire sbicciulosi, Luca? Eh, capirai quando li vedrai! Sono tutti sbicciulosi! Qualcuno dovrebbe censurarti, Luca! Guarda! Guarda! Non vanno bene queste cose! Non vanno bene! Un giorno ti mettono in un istituto per pazzi! Lo sai benissimo! E basta con sta sabbia! Almeno prova a cambiare qualcosa! Tirami del fango! Che ne so! Aspetta! Non voglio darti idee stupide! Ma comunque, se vuoi un po' di ispirazione, dai un'occhiata al mio scivolo! Guarda! Ho messo pure... Ho messo pure i tronchi qua! Ti piacciono i tronchi, Luca? Che sono i tronchi, scusa? È per fare esercizio! Per saltare tipo da un tronco all'altro! Che spettacolo! Mentre stai lì a giocare ai videogiochi e ti ingrassi e basta! Mentre qua fai un po' di movimento! Ah sì, perché fare lo scivolo d'acqua è proprio un esercizio assurdo! E soprattutto ti lavi una volta tanto, Luca! Sarebbe anche ora! Non pensi? Invertente! Ma che cosa? Che tu quello pieno di sabbia! Televisione! Carte da gioco! Luca, hai una prolunga che devo far arrivare l'elettricità fino alla casa sull'albero? No, no! Un regalo per te! Guarda! Eeeh! Guarda che roba! Ti piace la casa sull'albero? Mi sono... Sì, sì! Ma lo sai... Hai presente tipo la casa di prezzi? Bellissimo! Cos'è sta roba? Ma cos'è sta cosa? È talmente antico e per vecchi il tuo coso che... Guarda cosa mi ricorda! Queste sono le decorazioni perfette! È la tua costruzione che sembra una prigione! Questi sono perfetti da te! Ma fammi dare un'occhiata come me sapete! Ma smettila che li toghi in un attimo! Inutile! Ehi! Smettila con sti teschi! Vediamo cosa hai combinato tu nel frattempo! Non ha scosti un po' di... Sto facendo ancora la struttura! Io sono un po' indietro! Ma che noia! Ma poi dici che sono io quello vecchio e noioso! E poi tu... Tu hai fatto soltanto muri e pavimenti! Beh, beh, beh! E poi devo decorare l'interno e ci vuole tanto tempo rispetto al tuo parco giochi fatto con un tronchi! La bella pompa dell'acqua qua! Eeeh! Sbara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara! Che cos'è? Boom! Uuuuuh! Ma cos'è quella roba, Luca? E tara! Turu! Tututu-tutu! Ma la smetti di fare... Bam! Ma la smetti di fare le musichette? Cosa sai? Vincolo al gattino? Dai, aspetta che vengo... Vengo a dare un'occhiata! Io ho fatto nel frattempo una bella... Una bella area barbecue per i miei ospiti Ma aspetta cosa stai blatterando Luca Stai contando Non ci credo Luca Finalmente ho imparato a contare Sono orgoglioso di te Ma guarda cosa ho fatto Che c'è l'altro per con giochi Questi giochi di luce Beh in effetti devo dire che non mi dispiace Come idea Guarda che ingresso Ma prova a pensare a quanti uccelli e api Che passano che fulminerai con questi laser Ma ti pare il caso Il contrario dell'ecologia Luca Ma fai via va Tu cosa stai facendo piuttosto Sempre niente Qua cos'è il patibolo per impiccare le persone Ma non è un patibolo Non è una forca Qua semplicemente ci metto le altalene Dopo Luca capirai Non capisci cosa vuol dire il vero divertimento Non lo so qua manca solo Come nell'altra cosa le carte di briscola Il cantiere qua dietro E vedi che arrivano gli anziani non i bambini Perché mi dai sempre buone idee Luca Aspetta che mi sono seduto per sbaglio Delle carte qua Un bel mazzo di carte qua Sai come si gioca a scopone scientifico Luca Che mi sa che devo scrivere le istruzioni a qualche parte Dopo ti sfido E se vinco Do fuoco a tutto il tuo parco A proposito Signor ambientalista Tutto questo legno da dove l'hai preso eh Eh vabbè cosa vuol dire Dopo nel caso in cui io Lo metto dalla foresta e l'amazzoni Belliamo un po' questo ingresso Le merendine Le bibite Ma sembra pensare alle merendine Luca Io sto facendo un ottovolante nel frattempo Cosa ve la potete mettere qua di fianco alla Switch la Wii? La Wii? Beh in effetti anche a me non dispiacerebbe fare una partitella alla Wii Fai vedere un po' Hai messo un sacco di roba È l'ingresso questo Puoi subito mangiare Oppure puoi andare a giocare Sia i giochi un po' più antichi Sia guarda quante console Vabbè è spettacolare Ma cos'è questa roba con le X e 0? Ma significa scusami Questo l'ho brevettato io Espi si chiama il gioco del Tris Ah le brevettate Sì è proprio un'opera originale tua Totalmente non un plagio Non ti spiego come si gioca No vabbè è così complicato che Fai a turno Sì 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 Tutte X Metti tutte X Così vinci in tutti i sensi Beh mi piace come idea Tutto sommato E questo cos'è? È tipo E questo qua È tipo quel tavolo da hockey Che devi tipo prendere il coso La pallina e fare E c'è tipo E pensavo che fosse il freezer Vabbè scusa che mi confondo un po' Ma funziona veramente? No funziona veramente Beh devo dire che non è un'idea cattivissima questa Ridammi Valle del Zabile uscite fuori Eh mamma mia ma sempre Ma sempre anti-animalista sei Dai un'occhiata invece A proposito di animali Che cosa ho fatto io? Guarda Un bellotto volante A forma di paperella Te ispira? Guarda Dai almeno è un po' diverso Dalle solite cose classiche Devo dire Vedi quanto bello è? Perché finisce qua espi Non è molto a norma Ma comunque Luca Non è questo la fine Questo è l'inizio ovviamente Guarda Qui ho messo Un po' di minecart E ci si può fare un giro In un attimo Vuoi provare? Già che ci siamo Un po' tecnologico mi dicono Vabbè Va bene Un carrello a te Un carrello a me Guarda che spettacolo Non è spettacolare Sì che si va anche dentro Ma questo? E questo è il premio Per chi arriva fino in fondo Senza vomitare Biscotti Dai su Ne ruberò un paio Dai Luca Diamoci una bossa Una bella tettoia Luca come si è messo? A muscolatura qui Che ho creato Una bella parte Per l'attività fisica Ti ispira? Sì Tu quella Però non vale Io proprio mentre stavo facendo la cucina Tu devi fare la parte Per l'attività fisica Sembra Eh beh sì Ovviamente per farti sentire in colpa Guarda C'è abbastanza forza Ah Dannazione Però se no Sono caduto Ho praticamente la sbarra Su cui ti puoi arrampicare Non ti piace come idea? Eh È carino Sempre con sti tronchi qui Che devi fare Etatatatatatatatatatatatat Eeeh Ma allora anche tu sei in forma Hai visto? Qualche dolce in più Nella tua cucina Te lo puoi concedere Eh vaabbè E la stava proprio costruendo Guarda mettiamo Ma aspetta Ma questo Ma non dimmi Questo è il bancone dei premi Luca Aha Puoi scegliere Se mangiare qualcosa di speciale oppure di qua ti puoi ritirare un premio e ci sono grassi grossi premi grassi premi cioè cosa non ho capito che ci sciottona che è questa paperella non insulta la paperella mamma mia sempre sempre risultare paperelle va beh comunque luca anche se i premi sono belli non lo so mi sa che diventerà un po buio e chiuso questo posto non sono convinto che sia così bello che fammi tornare al mio parco giochi parco divertimenti cosa stai facendo espi cosa sto provando la mia nuova attrazione non ti piace è un giro giro tondo questa è la colonna sonora che ti meriti la musica più triste che mi venga in mente ma smettila va voglio vedere come invece va il tuo buco qua il tuo buco colorato diciamo guarda guarda che sto facendo la zona arcade con tutte le macchine super arcade ho anche così buio guarda guarda che che muri scuri secondo me ti serve qualcosa per ravvivare l'ambiente hai pensato a qualche luce extra magari non lo so qualcosa qualcosa dal soffitto ti piace un po' no espi non puoi sempre mettermi la lava ma come ti metto questo non è lava normale guarda che colore più giallo ah è bellissima spio il tappeto ah 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 e vabbè scusami qualche vittima ci deve sempre essere non è colpa mia se un po' di lava va ovunque dai il lava speciale luca mi vendicherò per questo eh mi vendicherò mi vendicherò a te ste minacce sempre solo minacce luca nel frattempo io mi faccio un paio di salti sui nuovi trampolini e vado avanti con la costruzione smettra di invidiarmi da lì lontano cosa diavolo sono quelle cose non voglio non voglio sapere tintele tintele non voglio vederle questo è solo un assaggio espi oddio santo che colpa mi fai prendere ma cos'è sta roba piano 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 cosa cosa diavolo stai facendo era questa la tua vendetta mi fa citare il tuo parco ci ho messo venti secondi buoni a rimettere a posto il tappeto vabbè però i palloncini non sono male dopo tutto luca ti devo ringraziare guarda che carini e vabbè ma adesso mi lagga tutto luca ma ti pare il caso e scommetto che a testa laggando pure di più genio no come no dai sono pure cieco va bene ok ok il tuo parco preparati per un'altra punizione da parte mia oh ma che idea geniale geniale se io metto la switch qua potranno giocare anche quando sono in bagno a lavarsi le mani anzi uno si viene qui cosa diavolo stai dicendo e poi vai direttamente qua con la switch in mare fa verrà tanta di quella gente uh sì 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 che cosa stai dicendo ma che schifo ho messo la switch in bagno ma ti rendi conto di quanto zuzza diventa poi ma ti pare perfetta uno entra se la prende poi si mette qui può spendere tutto il tempo che vuole che è schifo esatto poi la rimette qua e uno l'altro la prende tutti quanti la sporchano e diventa un disastro prima tirami le mani scusa sì certo io chiamo l'ufficio dell'igiene luca e ti chiudo direttamente questo posto dai che è pieno di fumo il tuo coso e palloncini come stanno andando le cose lucchino benissimo aspisto per prepararti una sorpresa che ti piacerà un sacco che coincidenza anch'io pensavo di farti una sorpresa perché ho trovato qualcosa che ti potrebbe piacere ti piace cos'è sto rumore aspetta che metto giù la tv e guardo cos'è cos'è combinato niente soltanto io sto facendo una roba per tutti un marchigineo che serve per per sicurezza nei casi in cui arrivano i ladri questo suona cioè in realtà suona sempre cos'è è un allarme luca non ti piace ma ti è straziato dove li hai piazzati che c'è un casino assurdo un po ovunque magari anche un pochino in bagno magari anche un pochino uh cos'è questo ma che bella stanza è quello che stavo preparando davvero un LAN party è praticamente ognuno ha la sua postazione con un computer o un portatile o ci si può portare quello che si vuole e poi si gioca tutti insieme ho anche un computer con windows 95 e questa è la postazione di noob ma capisco quindi questa è la mia postazione questa è la mia questa è la tua questo è noob ma perché è questa postazione ho pensato che magari mia cugina voleva venire a giocare tua cugina come si chiama tua cugina gianluca chiaramente no ma come gianluca ma e magari comunque per chi voglia venire a giocare con noi o vuole un posto in più beh vabbè dai ci stai insomma hai visto che devo dire che questa idea non mi dispiace e si merita un bel antifurto non si sa mai se qualcuno venga a rubare il computer qua e quindi mi sa che è un problema più grosso da tua ma smettila con sti palloncini ma già ciao ma no ma che disastro vabbè almeno va via questa acqua acquattico adesso bene l'idea del parco acquattico non mi dispiace luca vabbè dai mi stai lavando lavando tutto quanto senza problemi così non devo nemmeno spendere oh mi stai guardando luca no 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 ho finito io avevi un accendino in mano ho appena chiuso il tetto e il mio arcade sala giochi è finito davvero a me manca giusto un pezzettino qua e mi hai dato fuoco alla mamma porca è il sole è il sole è il sole dici vabbè stieni lontano la tua lente di ingrandimento che non è il caso nel frattempo comunque ho fatto anche i bagni se ti piace ne ho fatto uno per me e uno per te sei contento scusa questo è il mio sei sicuro non lo so io se fossi in te avrei qualche dubbio poi qui ho fatto una bella zona piena di sabbia dove fare i castelli e tu invece cos'hai fatto il tetto e beh è chiaro serviva una buona copertura guarda com'è prezioso questo tetto è notato che si muove ma è stranissimo fa un po' schifo fa un po' impressione sembra essere dentro dentro una creatura tipo ah sembra quasi non lo so un intestino una carne è bellissimo parla quello che c'ha il bagno come struttura più grossa di tutto il suo parco eh vabbè scusami serve un pochino di spazio eh per andare in bagno intanto volevo vedere la tua casa sull'albero come era venuta fuori ma non l'hai già vista ma dai luca non starai a perdere tempo più che altro facciamo scegliere i nostri cari spettatori su quale sbaglio qualcuno mi ha pelato no no continua mi tocca pure spegnere la casa spegniti ah per fortuna mi sono accorto dicevamo facciamo scegliere i nostri cari spettatori qual è la struttura che preferiscono se il parco giochi il parco divertimenti oppure oppure la sala giochi lì in fondo esatto esatto oh no ma l'hai acceso me l'avevo spento ma porca miseria ma sei un assassino ma la mia casa sull'albero ma non è la norma ma qui c'è un rischio di incendio troppo grande ma sei tu che non sei a norma guarda che chiamo l'ufficio igiene quella quella switch sporca non so cosa non te la farò passare è stata la pecora non è stata la pecora dovevi farò la recensione è troppo accesso pubblico ci sono i terroristi ma cosa stai dicendo sei tu l'unico qui madonna ok ok ho quasi controllato le fiamme vabbè ho completamente distrutto la casa sull'albero grazie no dai mi dispiace un po eh ti dispiace ti dispiace anche a me dispiace ne facciamo una insieme più grossa sì 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 dopo che hai ricostruito il tappeto per la quarantesima volta buona fortuna Luca dai non ci ho messo 20 secondi ci ho messo 20 minuti prima secondo me sei un bravo tappeziere te la puoi cavare ciao a tutti i minuti prima ciao a tutti i minuti prima